ciao ragazzi ben ritrovati e questo è il proseguimento del video dopo lo scavo ho fatto il collegamento che vado fuori dalla cantina a portare corrente ai lampioni che io parto da qua vado nella scatola di derivazione non guardate casino perché sono qua proprio al culmine del casino ecco qua vediamo spero di farvi vedere bene qua io prenderò la corrente dal dalle luci come vedete 10 ampere ok la prenderò da qua con questi ok con questi qua che vanno giù di qua io invece che una canalita ho usato il filo tanto è grosso in mancanza di curve ok poi ho portato anche la massa che se dovesse servire la massa ce l'ho la terra ok dopo dopo di che questo filo qua grosso io sono andato su col marrone per collegare dal timer come ho fatto il video del timer se voi vedete il video del timer e capirete che questo marrone qua va qua poi con quello del timer va sotto con un ponte e poi vado alla lampada che questo qua che questa qua che questo filo qua è il filo che va qua sotto dopo al timer che mi va alla lampada come vedete da qua ok da qua così poi il blu come ripeto come il video del timer o dell'orologio insomma io prendo questo filo qua lo attacco al timer e in più questo faccio lo ponticello lo attacco insieme e lo metto qua che poi viene solo tagliato la fase e non in neutro ok ok andiamo avanti poi vi farò vedere finito ciao alla prossima